Andiamo! Venga! Venga subito! Dobbiamo andare? Pronto per la missione? Pronto, vai! Non troppo, però... Perché no? Non è pronto a salire? Sul campo di battaglia prendiamo il carro armato, ci mettiamo come gli Stormtrooper Allora, prima si effettua un'esercitazione, le flessioni si fanno sulle braccia, sulle braccia Guarda, vai! Zero! Zero! Sai contare a meno? Te l'hanno insegnato alla caverna! Cos'è? Cos'è? Eh? Oh mimo, non dici che alzare sta voce! Perché va? Cioè! Eh, signora, dove si fa il fucile dall'altra? Tu devi puntarlo verso i nemici il fucile! Qua, per gli Stati Uniti da me! Là! Là sono i Viet Cong! Li vedi i Viet Cong? Strisciano nelle paludi! Così? Strisciano! Ok! I primi le serpeggia! No! Ok! Svegli, vieni lì com'è! Dove? Com'è? È lì, è lì in fondo alla parola dei Viet Cong! Artificiere Johnson, piazziamo questa mina! Questa... Mina! Sì, sì, la mette lei! Ah! Mina! La musica! La musica non è, non è concepitaria il campo di battaglia! No! Adesso, adesso vado in quel buco! E metto una bomba! Però entri, ci sono i musicali! No! No! Lasci stare i miei capelli, eh! Sì, sì! Si, che stanno per cadere fra un po', eh! Fai una bomba! Ok! Piano! 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 Perché non l'ha forza! Alla scelta! Alla scelta! Alla scelta!